salve a tutti in questo video tutorial parleremo di dove va posizionata la videocamera rispetto lo sguardo del relatore che sta parlando in questo caso io intendo la videocamera è un oggetto dentro obs posso metterla dove voglio in alto in basso a destra in centro ok non è un grande problema però se io devo guardare obs perché sto spiegando obs che nel secondo monitor e per me è alla mia destra se metto la videocamera in basso a destra guardo a destra sembra che guardi fuori dal monitor e infatti nel precedente video ho sbagliato il posizionamento della videocamera adesso se vedete sembra che io stia guardando obs quindi vi dico guardate l'effetto che ho messo del filtro audio del limitatore è a meno 10 ok per me in questo modo qui forse riuscite ad avere più un'idea che io stia guardando veramente la il monitor con obs e che sia interessato a spiegarvi l'argomento per questo video tutorial è tutto